E' un nuovo episodio di ModCraft Sarò piuttosto felice, vi ringrazio sempre comunque perché appunto mi supportate nei video quindi grazie grazie veramente molto Comunque lasciamo stare questo, la domanda di oggi riguarda la nostra Twilight Forest E nello scorso episodio vi ho fatto una domanda sui progetti ma lasciamo stare E quello che voglio chiedervi oggi sulla nostra Twilight Forest è quale di questi due progetti che vi andrò a dire ora Diciamo un po' speciali o parzialmente speciali secondo voi dovremmo andare a fare Allora il primo progetto che appunto mi è venuto in mente è quello di andare a creare una parte speciale per le api Anche nella Twilight Forest perché so che ci sono delle api che diciamo funzionano meglio in certi posti E appunto in certi climate, in certi climi Appunto magari nella Twilight Forest ce n'è qualcuna di speciale, non ne sono sicuro Però potrebbe essere una cosa da fare L'altro progetto speciale invece è lo sfruttamento dei mob speciali che si è dato speciali almeno 30 volte negli ultimi 10 secondi Dei mob che appunto spawnano solo nella Twilight Forest Come sapete ci sono tipo gli ignomi, ci sono tipo i pecoroni strani, ci sono queste renne Che non so se sono renne o non so che animale sia Venison quindi penso si renna o alce, alce forse non ne sono sicuro E appunto potremmo andare a utilizzare tutti questi nostri mob che spawnano solo nella Twilight Forest Per creare una mob farm speciale che ci dà più cose Per esempio questo dovrebbe essere tipo la replica di un maiale Solo che in realtà è un cinghiale ma vabbè E appunto poi ci sono mob come gli elfetti, quelli che si trovano nelle montagne Che droppano tipo sticks e cose varie E ce ne sono altri altri mob che appunto droppano cose piuttosto strane Quindi potremmo andare a fare questa cosa appunto se la votate Vi chiedo per favore di votare perché è una domanda piuttosto importante E appunto determinerà quale sarà il primo progetto che andremo a fare nella nostra Twilight Forest La seconda domanda del giorno è come al solito Se avete degli altri progetti idee o cose che secondo voi dovremmo andare a fare Lasciatemele pure scritte nei commenti Perché prendo sempre spunto dai commenti per progetti vari o per consigli eccetera 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 Quindi se c'è qualcosa che volete dirmi fatelo pure Leggo sempre tutti i commenti Passiamo al commento del giorno di oggi Che in realtà sono due commenti messi insieme Perché riguardano la stessa cosa E visto che nello scorso episodio e anche nell'episodio prima Siete stati così bravi con i commenti e con il mi piace Ho deciso di premiarvi scegliendo noi due Li ho messi insieme appunto perché sono della stessa cosa Però i due commentatori sono Ertussi e Lionel penso si 97 Che ci danno due idee per poter spostare le foglie quelle che abbiamo visto nello scorso episodio che non riuscivamo a spostare per qualche strano motivo di forestry che non ci permette di farlo eccetera eccetera Ertussi ci consiglia di utilizzare la portal gun e invece Lionel 97 ci consiglia di utilizzare il tocco di velluto che è un enchantment che si può mettere su gli attrezzi Quindi le andremo a testare più tardi in un'ora perché voglio provare a fare delle altre cose prima Però appunto ringrazio per i consigli perché non ci avevo pensato a nessuna delle due idee Quindi veramente grazie ad entrambi per avermi dato queste idee per provare a spostare e semplificarci la vita appunto per un progetto futuro Comunque questo è tutto quello che volevo dirvi prima di iniziare l'episodio e ora iniziamo Ok allora la prima cosa che voglio andare a fare oggi è continuare a lavorare alla nostra casa Allora potete vedere che ho con me un po' di item che ci serviranno per iniziare ad addobbarla e inserirci cose Comunque voglio farvi vedere che mi sono sbagliato perché quella cosa che volevo mettere al centro di 3x3 in realtà è un 2x2 Quindi il centro lo andremo a utilizzare per mettere un table che diventerà tramite l'utilizzo della nostra, se riesco a trovarla, wand Diventerà il cosiddetto tavolo per il crafting magico che è questo qua però ovviamente la wand non ce la lasciamo dentro Ne andiamo a fare un'altra poi quando appunto ci servirà E in realtà tutto intorno a questo nostro tavolo qua diciamo su un livello minore quindi qui sotto Voglio andare a metterci i cosiddetti fabricator che sono quei blocchi che ci permettono di autocraftare Sono quelli la blu che vedete in fondo Questi qua che ci permettono di autocraftare qualcosa buttandoci semplicemente dentro l'item O appunto facendo la cosa così ma appunto non ci interessa per ora E cosa andremo a fare con il resto degli item che ho? Beh prima di vedere quello voglio fare vedere come andremo a fare l'intero layout Allora l'angolo qua sarà di 3 o anzi no, come lo puoi chiamare? Il lato quello dritto sarà di 3 Poi avremo 2, avremo un punto, lasceremo 2 spazi e ricominceremo la stessa cosa di qua Quindi questo sarà di 3 e anche quest'altro sarà di 3 Poi andrò a rimodellare un po' l'intera nostra montagnella Montagnella? Montagnella? Montagnella è la parola più strana che potevo dire La nostra montagna, la nostra piccola collina O più che altro è la base di una collina ma vabbè Per renderla un po' più bella ma per ora possiamo fare così E poi qua avremo appunto la nostra entrata che avremo su tutti i lati Perché ne voglio fare una su tutti i lati? Perché voglio avere una cosa molto aperta e voglio che appunto sembra una cosa dove possiamo entrare E uscire senza nessun problema Non una cosa che è una casa ristretta, chiusa eccetera 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 Quindi dovrebbe venire qualcosa di piuttosto carino In più questo sarà il livello finale E sopra ci sarà un altro livello probabilmente o di foglie o di qualcosa del genere Per non diciamo distogliere molto dallo stile naturale che stiamo utilizzando ora Perché potete vedere che sto utilizzando tipo solo legno e cose del genere Per tenere tutto lo stesso stile uguale Quindi cosa andremo a fare con gli item che ho nell'inventario? Beh un paio di cose le andremo a fare proprio ora La prima cosa che voglio fare è mettere qua i nostri due table così E cliccarci con i scraping tools per fare la nostra tavola di ricerca E qua andremo invece a mettere i nostri archi in block Per creare l'altra cosa di crafting di towncraft che è questa qua Che è quella che avevo intenzione di mettere al centro Ma in realtà mi sono sbagliato erano due per due non tre per tre Però potete vedere che stiamo praticamente giocando a tetris qua E qua probabilmente andrò a metterci ceste o cose del genere per contenere gli item E poi il resto della casa ho già delle idee per quello che andremo a fare Qua andremo probabilmente a mettere il sistema col calderone Che sarà tipo il calderone qua, i golem intorno eccetera eccetera Ma lo andremo a fare poi con più accuratezza Però per ora ci fermiamo qui Ok prima di continuare vi voglio parlare di una piccola novità Che andremo ad introdurre per movimentare la nostra serie Fino al cambiamento del modpack e del mondo Allora questa novità andrà ad apportare un sacco di cambiamenti nel gioco Eccetera eccetera Oltre al fatto che ci siamo messi a giocare sempre in normal O almeno in normal Anche se possiamo uccidere tutto con un paio di colpi ma non importa E qual è questa novità? Beh quello che andremo a fare sarà praticamente andare a modificare un po' lo stile di gioco E andremo a privarci della possibilità di autoprodurre Yor Come sapete noi Yor li possiamo autoprodurre con la Umatter Con delle macchine di mining eccetera 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 E noi andremo appunto a obbligarci a dover andare a prendere tutte le cose a mano Perché? Perché questo ci permetterà di come prima cosa portare un sacco di Possiamo dire novità e più divertimento nel fare i progetti Soprattutto per me perché così dovrò andare a ricercare gli item eccetera 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 E l'altra cosa che appunto dovremo andare a fare O che verrà portata da questo nostro cambiamento È che ci spingerà di più a trovare nuove aree Quindi non ci permetterà di stare appunto in una sola area per scavare per sempre Ma ci spingerà ad andare a trovare nuove aree E appunto scoprire nuove parti del mondo Quindi sarà anche piuttosto interessante perché andremo ad esplorare un bel po' Io voglio sapere cosa ne pensate di questo cambiamento Perché a me piace un sacco Mi è stato consigliato un po' da parte vostra Un po' ci sono arrivato io a questa idea E sarà finché non andremo a cambiare modpack e mondo Perché la cosa è piuttosto imminente Come vi ho detto ci sto lavorando Però non è che posso fare tutto allo stesso tempo Perché sono piuttosto impegnato con la scuola Quindi ditemi cosa ne pensate di questo cambiamento E appunto fatemelo sapere nei commenti Ok allora andiamo un po' a lavorare con le nostre api Allora quello che voglio andare a fare oggi È parlarvi della prossima ape che andremo a iniziare Non la andremo a iniziare ancora oggi Perché diciamo è piuttosto complicata Per ora voglio spiegarvi come lo andremo a fare E voglio spiegarvi che cosa andremo a fare Quindi qual è la prossima ape che andremo a cercare di produrre Beh l'ape che stiamo cercando è la cosiddetta Fermented Bee Che produce le cosiddette Alcoolic Combo Alcoolic Non so sinceramente come si pronuncia in inglese Le Combo Alcooliche Perché producono l'Alcoolic Drop Che ci permette di creare il cosiddetto Short Mid Che si può fare anche in altri modi Però il modo più semplice è appunto farlo direttamente con questi Alcoolic Drop Il Short Mid è una bevanda introdotta da Forestry Che ha degli effetti piuttosto interessanti Che voglio andare a mostrarvi Quindi dobbiamo andarla a produrre Però per arrivare alle cosiddette Fermented Comb Dobbiamo fare un bel po' di lavoro Perché No scusate alle Fermented Bee Dobbiamo fare un bel po' di lavoro Perché Per fare una Fermented Bee Dobbiamo avere una Fruity E fonderla con una Rural La Rural si fa con una Meadows E Diligent Che abbiamo già Perché le Meadows si trovano nel mondo E le Diligent ce le abbiamo qui da qualche parte Forse vediamo Non so quali sono sinceramente So che hanno tipo il colore violaceo Però non mi ricordo So che ce le ho in una cesta da qualche parte Non penso che le abbiamo automatizzate E diciamo Ma quella è piuttosto semplice La Rural è piuttosto semplice Però per la Fruity È dove inizia il punto difficile Perché per fare la Fruity Dobbiamo andare a fondere una Ripening Con un'altra Rural Per fare la Ripening Dobbiamo andare a fare una Sugary Con una Forest E per fare la Sugary Dobbiamo fare una Sweetened Sweetened Con una Diligent E per fare la Sweetened Dobbiamo andare a fare una Valiant Con la Diligent Quindi è un bel po' di lavoro Credetemi Questo è un motivo Per cui ho anche messo a fare Queste Diligent Che ho con noi Ora voglio purificarle qui dentro E appunto Da queste nostre Diligent O Diligent Scusate Poi andremo a fonderle Con Una Una Valiant Per creare la Sweetened Per poi passare alla Ripened Anzi alla Sugary Poi alla Ripened E poi finalmente alla Fermented Quindi sarà un bel po' di lavoro Credetemi Vi andrò a fare vedere gli update Nei prossimi episodi Probabilmente andremo a utilizzare Questo nostro Mutator qua Ma per ora Lasciamo stare Nel frattempo Voglio andare a controllare Tutte le nostre api Per vedere quali sono Da dimezzare In conto di drone Quindi queste Queste Quest'altre E vediamo qua Qua penso Le nostre Led Diamond Lapis Anche le Resilent Diamond Lapis E nelle altre Penso null'altro Questi sono vuoti Questi ancora Questi ancora Questi ancora E questi ancora Quindi ne abbiamo un altro bel po' E non abbiamo ancora finito Di smaltire Quelli dell'altra volta Quindi potete vedere Che sono veramente Tante api Che dobbiamo smaltire Soprattutto perché Si staccano tipo così In modo strano E mi dà un fastidio enorme Perché dovrebbero staccarsi In un modo un po' più corretto Ma non lo fanno Però vabbè Per ora le buttiamo qui dentro E intanto le mettiamo In questa cesta qua Solo perché non so Dove infilarle E nel frattempo Voglio farvi vedere Che qua ho avuto Un piccolo problema Con le nostre Heroic Perché quello che stava succedendo È che Uscivano i nostri I nostri drone Però qua Nella nostra Pieris pipe Veniva prima controllato Il nero Quindi andavano Prima gli item Verso il basso E poi Andavano nel blu Quindi qua a sinistra Quindi era un problema E tutti i nostri drone Venivano in poche parole Cancellati Quindi voglio tipo Lasciarne un 5 Perché so che Sono più che abbastanza E questi altri qua Li voglio tirare fuori E buttare qui dentro In modo che poi Li andiamo a trasformare In DNA Ricordo DNA Siamo arrivati a 340.000 Che è un bel po' Però possiamo ancora migliorare Ma visto che non ne stiamo utilizzando Molto al momento Diciamo abbiamo Una Un aggiungimento No non un aggiungimento Un Un prodotto diciamo Molto più grande Di quello che avevamo prima Le nostre Imperial Stanno funzionando piuttosto bene Però Un'altra cosa che voglio farvi notare È che questo nostro sistema Di produzione di frame Si è completamente automatizzato Ora L'unica cosa che dobbiamo Diciamo dare O continuare a dare Sono le pink wool O diciamo Qualsiasi tipo di Di wool E la wool card Per fare le nostre stringhe Si potrei fare una farm Di ragni Che probabilmente Abbiamo già da qualche parte Per fare il tutto Però sinceramente Non voglio perdere il tempo A fare una cosa del genere Quando lo posso fare Direttamente a mano In un periodo Molto più corto E molto più facilmente Un'altra cosa Che voglio farvi notare È che abbiamo finito Il seed oil E che dovrò Metterne a produrre altro Ok Voglio andare finalmente A testare Completamente Questo nostro Nuovo Alveari mutatore Potete vedere Che com'è Ho dei 9 frame housing Che voglio iniziare A mettere qua E dentro di essi Voglio metterci Delle chocolate frame Giusto per ora Per avere la massima velocità E quello che andremo a fare Sarà appunto Testare con Una delle combinazioni Più semplici di Apey Che sono Le due comuni Diciamo che si trovano Per creare appunto La cosiddetta common Quindi potete vedere Che ho con me Delle meadows Che sono queste qua Rosse E invece le altre Queste qua Questa blu singola O azzurrino Diciamo È una forest Quindi Quello che andremo a fare Sarà buttare qui dentro Una forest princess E un meadows drone E andremo a vedere Quanto ci mettono A modificarsi E se ce la fanno Al primo colpo A diventare Appunto Common Nel frattempo Voglio andare Un attimo A volare Fino a qua Per controllare Perché non vedo più nulla In produzione Che cosa ci manca Il pollen Ne abbiamo ancora qua L'abbiamo completamente finito No L'abbiamo completamente finito Quindi dobbiamo mettere A produrre il pollen Che se non ricordo male Era delle Industrious Sì Quindi dobbiamo tirare fuori Un attimo L'Empirial Perché ne abbiamo più che abbastanza Di loro Dobbiamo trovare Le nostre Industrious Che non mi ricordo Dove ho messo So che le avevo tirate fuori Per fare qualcosa E non so Ah eccole qua Eccole qua Perfetto E voglio tirare fuori Appunto queste nostre Qua Non gli manca ancora poco Poi andiamo a Appunto Rifare il tutto Aspettiamo che finisca Anzi no Non aspettiamo che finisca il ciclo Lo puoi finire qua Il tuo ciclo Dov'è uno libero Vediamo Il primo libero è questo Quindi puoi andare qua E continuare Così nel frattempo Produciamo anche un po' di pollen Perché l'abbiamo finito completamente Cioè Ne abbiamo sei pezzi Però Non ce ne possiamo fare molto Nel frattempo Voglio buttare qua Queste comb A prodursi E ora andiamo un attimo A controllare qua Per vedere se hanno finito Potete vedere che hanno finito Al primo colpo E Che Ha avuto successo Al primo colpo E hanno finito Poi sto in fretta E se ora le andiamo a controllare Con il nostro B-Analyzer Probabilmente queste sono Common Common E Common Common Quindi potete vedere che abbiamo Delle Common pure Prese al primo colpo Anche se Queste sono le più semplici Hanno una chance molto alta Bla 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 Appunto abbiamo preso Delle Common Common Al primo colpo E in un tempo così piccolo O in un tempo così Cordo Questo sta a significare Che il sistema sta funzionando E che appunto Lo potremmo andare a utilizzare L'unica cosa che manca È trovare un modo Per portare fino a qua Le chocolate frame Però Quello non è Diciamo la cosa Che importa di più Perché alla fine ci basta Una ender chest O qualcosa del genere Per trasportarle E portarle fino a qua Quindi non è Una cosa così difficile Però potete vedere Che il sistema funziona Ok allora Sono qua La nostra farm Di pigman Perché sono venuto A raccogliere un po' Di xp Forse un po' Troppa Ma non importa Perché voglio applicare Il silk touch Su queste shares Per provare A testare Entrambi i metodi Che ci sono stati consigliati Nei commentoi Perché non so se dire Commento O commenti Commentoi Del giorno Appunto di oggi Quindi andiamo a provare Sia la portal gun Che ho preso Dalla nostra postazione Sia le nostre shares Quindi proviamo Su questo Le shares Non funzionano La portal gun Nemmeno Proviamo anche sull'altro Giusto per essere sicuri Shares non vanno Portal gun Nemmeno Quindi l'unico modo Che abbiamo Per riuscire a fare Questa cosa È veramente Andare a utilizzare Un intero albero Per prendere le foglie Farle crescere Rompere tutto il resto E lasciare solo Quell'unica foglia Che ci interessa Sarà una cosa Micidiale da fare Perché richiederà Tantissimo tempo Comunque non ho ancora Spostato i nostri Appiari più in su Perché ho deciso Che invece di spostare Gli appiari in su Andremo a spostare Gli alberi in giù Quindi questi Per ora Li possiamo andare Ad abbattere Perché poi Ne andremo a far crescere Altri E appunto Questi non ci interessano Quindi Per ora Diciamo non abbiamo fatto Nessun progresso Con gli alberi Ma spero di riuscire A fare un po' Nei prossimi episodi Perché Appunto Andremo a spostare Gli alberi E spero che Il nuovo metodo Il nuovo modo In cui li andremo A posizionare Appunto Potrà funzionare O almeno funzionerà Speriamo di sì Però Appunto Non so ancora Se funzionerà Ma incrociamo le dita Ok Allora Per concludere Questi episodi Voglio parlarvi Di una piccola cosa Che andremo a fare All'episodio 180 Siamo tre episodi Di distanza Però non importa Ve la voglio dire Comunque Perché La ritrovo O anzi La trovo Piuttosto importante E appunto Voglio farvela sapere Prima per quelli Che hanno seguito Il video Fino ad ora Quindi Di che cosa Vi voglio parlare Beh Voglio dirvi Una piccola cosa Speciale Che andremo a fare E nell'episodio 180 In poche parole Andrò a dedicare Parte di esso All'esplorazione Perché E come Andremo più che altro A farla Beh andremo a farla In un modo un po' più normale Del solito Non andremo tipo A saltellare in giro Per i mondi O qualcosa del genere Andremo semplicemente A navigare Intorno al nostro mondo Ovviamente Non intendo solo Con una barca Ma con tutti i modi possibili E perché lo voglio fare Perché voglio scoprire Nuove parti del mondo Per avventurarci E per trovare Nuovi scopi E per trovare Nuove idee Appunto nel mondo E vi consiglio Che se voi avete Già scaricato la mappa E avete trovato Un posto interessante Dove secondo voi Dovremmo andare Di scriverlo O di scrivermelo Nei commenti Perché appunto Potrei scegliervi Magari come commento O come appunto Persone da ringraziare Per avermi dato Una location strana O interessante O qualsiasi altra cosa Comunque Appunto Volevo giusto Farvi sapere questa cosa Perché la ritenevo Piuttosto interessante E volevo Anche sapere Cosa ne pensate voi Su di essa Però Mi dispiace dirlo Ma per questo episodio È tutto Perché siamo già Oltre ai 20 minuti O anzi siamo proprio Tipo al limite ora E nulla Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Commentare Iscrivervi E fare tutte le cose Che dico in ogni santo E singolo episodio Che ormai sapete già E vi ricordo che Se volete aiutarmi ancora di più Con i video E con il canale Di mandare il video Agli amici O ai parenti O alla nonna Allo zio A chiunque voi vogliate Appunto se volete aiutarvi E nulla Con questo il saluto Bella raga Qui danni fra Ciao